The New Stories. La tua informazione libera. Altroamici, tutti giovanissimi, stavano andando a calore di Mirabella per mangiare un gelato insieme al resto della compagnia. Provenivano tutti dalla provincia di Avellino. Il guidatore e un altro giovane erano di Frigento, mentre gli altri due erano di Grotta Minarda e calore di Mirabella. Secondo una prima ricostruzione, dopo lo scontro frontale con la Fiat Panda, finita in una cunetta, la Mercedes ha continuato la sua corsa fino a schiantarsi contro un muro di cemento che delimita l'ingresso di un'azienda. Per ricostruire l'esatta dinamica è stata aperta un'inchiesta, e le salme delle quattro vittime sono ora a disposizione della magistratura, che ha disposto il trasferimento all'obitorio dell'ospedale Sampio di Benevento in attesa dell'autopsia. Sono state sequestrate anche le tre auto coinvolte nell'incidente e gli smartphone dei ragazzi.